Amici d'internet, vado a farmi fare questo, che vi faccio contare una bella colacchia di storia all'uso all'uso. Stavamo avuto un prevedo che aveva un sospetto con la sagrazzana, se aveva venuto la sagrazzia. Beh, buona cosa. Stavamo facendo la sagrazzana e disse Mangu, che? Noi che per casa mi ha detto qualche cosa? No, ragion, sono a sagrazzana e c'è un sacco che dice, è sicuro che non hai mantenuto i giorni? No, sicuro, non è successo niente, non ha traggio nessuno che ha tornato i giorni. Sicuro, sicuro! Eh si, sicuro, sicuro. Avviene che a segma non ci sono confesso. Non è mai confessato se non mi fa questa peccata, avviene che è sicuro che qualcosa ti hai fatto. Vabbè diciamo. E' pronto ma la voglio, questa mattina, dallo davanti al confezionale, io prevedo disse, beh, confesso, e fa una gritta, c'è qualche parolaccia, qualche parolaccia, qualche mancanza, qualche cosa, ma niente, e dico, manco, senza passare, noi che debba voto, vina mia, che ha servito la sagrazia, c'è ieri, saprei, noi che debba voto, vina mia, che ha servito la sagrazia, c'è ieri, saprei, vina pure tu, facciamo un giro, e si invertirono, e dall'avano, prevedo, dice, manco, parla, parla, parliamo di 60, saprei, non è che dopo la messa, ti puoi tirare la camera rosina, affinché dovevo macellare, manco, o sei che avrà meno 60 da stavano, e questo è per farvi capire, che non c'è una tenda, che non c'è una tenda, ma c'è una tenda, può scagliare la prima pietra, ma c'è stato sotto scopo, è me che c'è una tenda, e questo lo voglio indirizzare a tutte le persone che, ci vuoi capire, capire.